Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del corecomo Piemonte. Ben trovate e ben trovati, sono Dario Bonsignorio di Uni, l'ente italiano di normazione. Sono qui con Elena Mocchio, responsabile innovazione e sviluppo, per parlare di un argomento importante e che ha molto a che fare con la nostra vita e i nostri diritti. Parliamo di accessibilità dei servizi turistici. Intanto ben trovata Elena. Grazie, buongiorno e ben trovati a tutti e a tutte. Accessibilità dei servizi turistici. Innanzitutto, che cosa intendiamo per accessibilità? Cominciamo a sfatare un mito. L'accessibilità non riguarda solo alcune persone, riguarda tutti noi nell'arco della nostra vita, da quando siamo bambini a quando si diventa anziani. Poter accedere e poter fruire in modo completo di un prodotto, di un servizio, attiene alla nostra libertà sostanziale e dalla qualità della nostra vita. E non si tratta dunque di un principio astratto, ma di una questione concreta. Il tema del design for all, come viene definito, oppure dell'universal design, di cui si sente parlare, richiamano una sfida che è una sfida ambiziosa, una sfida importante. Ed è quella di costruire degli spazi, a cui poi ovviamente sono collegati i prodotti, i servizi, eventualmente, che tengano conto della diversità e che abbiano come obiettivo l'inclusione sociale. E viano a tutti pari, anzi eque, opportunità di fruizione di beni e di servizi. E la domanda ovviamente è, cosa c'entra la normazione? La normazione c'entra, c'entra moltissimo. Infatti la normazione è uno strumento tecnico che fornisce delle soluzioni tecniche, quindi costituiscono un valido riferimento, a volte anche indispensabile, a supporto dei progettisti, dei designer, degli imprenditori, degli amministratori, dirigenti politici e dei legislatori. Parliamo quindi di accessibilità dei servizi turistici. Parliamo del più recente documento paranormativo che si occupa di questo tema, la Unipdr 131. Sì, stiamo parlando della prassi di riferimento che fornisce agli operatori delle strutture ricettive, degli stabilimenti ternamali e degli stabilimenti balneari, ma anche degli impianti sportivi, i requisiti minimi per l'accessibilità dei servizi che vengono offerti. E quindi questi requisiti vengono peraltro precisati ed individuati anche in altri documenti normativi. Un esempio è la Uni ISO 21902 che riguarda appunto l'accessibilità del turismo per tutti, una norma internazionale adottata a livello nazionale, e un'altra è la Uni CEI EN ISO 17210, quindi una norma europea che parla dell'accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito, a cui si affianca una prassi di riferimento, quindi un documento paranormativo, pre-normativo anzi, che è la PDR 92, che tratta in modo specifico gli aspetti di sostenibilità ambientale, di accessibilità e qualità e sicurezza degli stabilimenti balneari. La PDR 131 è stata proprio recentemente rivista su richiesta del Ministero del Turismo e del Ministero per le Disabilità con la collaborazione delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità e ha lo scopo di integrare i documenti già pubblicati e di dettagliare i requisiti di accessibilità. Sono requisiti che si basano sicuramente sul fatto che ci sia una progettazione accessibile e fornisce il documento delle raccomandazioni tecniche che sono utili ai fornitori dei servizi turistici per realizzare un'offerta anche certificabile da organismi accreditati, quindi organismi di certificazione, che sia veramente inclusiva e accessibile per tutti. Un segno di civiltà che può essere anche un potente strumento di differenziazione e quindi, perché no, di competitività sul mercato. Possiamo fare qualche esempio pratico? Sì, certamente. Possiamo pensare ad esempio alle strutture che hanno delle attività ricreative. Quando una struttura, infatti, ha una struttura ricettiva, organizza delle attività ricreative, questa struttura deve rispettare una serie di requisiti e di raccomandazioni in modo tale che questa fruizione di servizio possa essere garantita a tutti i clienti, quindi tutti i clienti possano avere accesso a questa attività, eventualmente anche adattando la proposta alle diverse esperienze, in toto o in parte, proprio in funzione dell'accessibilità del servizio stesso. Il documento è quindi un documento che entra in tantissimi dettagli ed è corredato da una serie di informazioni anche puntuali, e inclusa una checklist di controllo che è estremamente utile proprio per queste verifiche puntuali dell'accessibilità delle varie opzioni di servizi che vengono offerte dalle strutture ricettive. Bene, grazie Elena. Ricordo che per saperne di più sulle attività di Uni e sulle norme tecniche potete consultare il nostro sito internet all'indirizzo www.uni.com. Vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie. Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Sabrina Mariotti dell'Associazione Vittime del Dovere. Oggi vi parlerò dei servizi dedicati, dei progetti e delle attività dell'Associazione. Una piccola premessa, l'Associazione Vittime del Dovere è stata fondata nel 2007 ed è un'organizzazione apartitica e senza fine di buco, attiva su tutto il territorio nazionale. L'Associazione opera in modo tenace affinché sia onorata la memoria dei caduti, approvata e consolidata una legislazione equa e rispettosa del sacrificio delle vittime, garantita adeguata tutela alle famiglie dei caduti e agli invaridi, diffusa la cultura della legalità tra i giovani e valorizzato il lavoro di coloro che quotidianamente rappresentano le istituzioni. Passo la parola alla collega, l'avvocato Paola Maria Di Luccia dell'Ufficio Legale. Buongiorno a tutti. L'Associazione offre diversi servizi dedicati ai soci. Tramite un call center che è attivo tutti i giorni, è possibile ad esempio contattarci per avere una prima assistenza, utile sia a coloro che hanno ottenuto già il riconoscimento di vittima del dovere, sia a quanti hanno bisogno di informazioni generali. Il call center poi potrà anche indirizzare gli interessati ai servizi offerti dall'ufficio legale. Un ufficio che è dedicato alla consulenza giuridica stragiudiziale per i soci ordinari, per i soci sostenitori e offre consulenza sulla normativa che prevede il riconoscimento di status, i relativi benefici, ma aggiorna anche sulle novità in materia a livello giurisprudenziale. I legali che collaborano con l'associazione non si occupano solo dei servizi dell'ufficio legale, ma anche di gestire le attività in ambito parlamentare. Da anni infatti l'Associazione vittime del dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra le diverse categorie di vittime si è finalmente eliminata. Grazie mille Paola. Ora passo la parola alla collega dell'ufficio stampa, la dottoressa Valentina Vitaliano. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Valentina Vitaliano e sono la responsabile dell'ufficio stampa dell'Associazione vittime del dovere. L'ufficio stampa si occupa della gestione di tutte le attività di informazione e comunicazione degli eventi realizzati dall'ente o comunque di interessare i soci, far prevenire agli iscritti aggiornamenti costanti con notizie e informazioni collegate alle tematiche appunto delle vittime del dovere. Consci che la tutela delle vittime passa anche attraverso la consapevolezza alla prevenzione dei comportamenti legittimi in ambito giovanile, abbiamo deciso di impegnarci concretamente affinché si rifonda la cultura della legalità nelle scuole. E tra il proposito i nostri progetti di educazione alla legalità cittadinanza attiva interessano ogni anno milioni di studenti in tutta Italia, attraverso percorsi che prevedono la collaborazione delle forze dell'ordine e le forze armate. E sono partati quasi 15 anni dall'avvio del progetto di educazione alla cittadinanza della legalità che ha coinvolto un complessivo numerico di oltre 60.000 studenti. Grazie mille Valentina. Quindi per riepilogare attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, cerimonie commemorative religiose, spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni sportive, la partecipazione ad audizioni parlamentari, dibattiti, trasmissioni televisive e progetti nazionali rivolte alle scuole e all'università, la nostra associazione cerca di sensibilizzare le nuove generazioni a rispetto delle istituzioni e del bene comune. Per qualsiasi ulteriore informazione vi rimando al nostro sito www.vittimedeldovere.it. Grazie. Salve, io sono Diana Gioffre, vicepresidente dell'associazione Aprio DV, associazione Pro-Retinopatici e Ipovedenti, che si occupa dei diritti delle persone con disabilità visiva. Oggi parliamo dell'accessibilità digitale, argomento considerato un po' di nicchia, ma che ovviamente oggi è fondamentale. L'accessibilità digitale è la capacità dei sistemi informatici di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità che dovranno utilizzare siti web, applicazioni, software per lavorare e così via. Perché devono utilizzare delle configurazioni particolari o le cosiddette tecnologie assistive. Ad esempio, le persone cieche utilizzano la sintesi vocale o screen reader per navigare con il computer, il web o utilizzare il loro computer. Quindi c'è una voce che attraverso dei comandi gli consente di utilizzare il computer e navigare sui siti web. Le persone ipovedenti invece necessitano di due configurazioni specifiche. L'ingrandimento, quindi la possibilità di ingrandire i caratteri, ma anche il contrasto di colore. Se due colori non sono ben contrastati, purtroppo non è possibile navigare agevolmente il web o comunque utilizzare il computer, lo smartphone, che oggi si trovano nelle tasche di tutti e tutte noi. Però, per fortuna, questo argomento è talmente importante che ci sono delle leggi a nostro supporto. Infatti, dal 2004 esiste la legge 4 del 2004, anche detta legge stanca, che impone alle pubbliche amministrazioni di avere tutti i loro software, siti web, documenti digitali accessibili, in modo tale che i cittadini e i lavoratori e lavoratrici della pubblica amministrazione con disabilità possano agevolmente utilizzare questi strumenti. Da qualche anno, per fortuna, l'Unione Europea ha preso in mano la situazione e è uscito lo European Accessibility Act, che consente e impone anche alle aziende private di avere siti web, app e prodotti digitali accessibili. Pensiamo ad esempio ai Bancomat per ritirare il denaro, oppure ai famosi Totem, che ultimamente sono touchscreen e escono sempre di più in ristoranti, treni, stazioni e così via. Dovranno essere accessibili, quindi anche le persone cieche e ipovedenti, ma anche con disabilità motoria, potranno utilizzarli. Lo European Accessibility Act, diciamo, sarà direttamente legge dal 2025 in poi e l'Italia ovviamente dovrà rinnovare la legge stanca per far sì che risponda ai criteri effettivi dello European Accessibility Act. È importantissimo ricordarsi, tra l'altro, che nel 2024 l'accessibilità digitale è una porta che consente alle persone di lavorare, informarsi, acquistare online. Pensate ad esempio al fatto che molto spesso le nostre città sono pericolose, soprattutto per le persone con disabilità, e l'opportunità di poter acquistare online e ricevere ciò di cui abbiamo bisogno direttamente a casa nostra, potendo leggere le caratteristiche del prodotto, potendo scegliere quanti prodotti poter acquistare, è fondamentale. Ultimo argomento, ma sicuramente importantissimo, è il tema del lavoro. Oggi la maggior parte dei lavori avvengono al computer, e poter fare carriera, essere soddisfatti sul lavoro, impone l'utilizzo agevole di questi strumenti informatici. L'accessibilità digitale ci consente proprio questo, di integrarci realmente a scuola, al lavoro e nel quotidiano. Un argomento fondamentale che speriamo con lo European Accessibility Act abbia la sua reale e concreta valenza per l'integrazione delle persone cieche e ipovedenti, ma con disabilità in generale. Grazie mille per avermi ascoltata e alla prossima occasione. Buongiorno, vi parlo a nome della LAV Leganti Vivisezione. Noi siamo un'associazione che cerca di tutelare gli animali, non solo da compagnia, ma anche selvatici ed esotici. è un'impresa ardua perché non sempre la legislazione nazionale, regionale ci aiuta realmente a tutelare gli animali. Abbiamo chiesto, chiediamo al dottor Enrico Moriconi, consulente di etologia e benessere degli animali, se le leggi riescono veramente a tutelare soprattutto i selvatici in Piemonte e non solo. Ma purtroppo noi avevamo una legge che era abbastanza buona, la 157 del 92, che era una legge che aveva lo scopo di tutelare effettivamente gli animali selvatici, però in questi anni c'è stata una continua deregulation, un attacco a questa legge, sia a livello nazionale sia a livello regionale. E assistiamo quotidianamente a delle proposte, delle iniziative di concedere ai cacciatori sempre maggior spazio, non più garantendo il principio della tutela degli animali. Si continua a permettere la caccia a specie protette come la pernice bianca, il gallo cedrone, che sono specie che vivono in numeri ormai limitatissimi sul territorio. Eppure per soddisfare le doppiette si continua a concedere la possibilità di cacciare. Abbiamo poi la gestione dei cinghiali. I cinghiali sono demonizzati, vengono presentati come un grandissimo problema e i cittadini, le persone, sono convinte che l'unico sistema sia quello dell'uccisione dei cinghiali. Poi adesso è subentrato anche il problema della peste suina africana. E quindi c'è questa completa scelta di procedere nel confronto degli animali solo con l'uccisione. Lo vediamo anche nei confronti degli orsi, vediamo anche che da qualche parte ogni tanto c'è il tentativo di dire uccidiamo anche i lupi. Il principio della tutela che noi continuiamo a riproporre è quello che la stessa Unione Europea sostiene che ci sono i cosiddetti metodi ecologici, ovvero metodi che non prevedono l'uccisione dell'animale per la gestione del numero, a parte che il fatto che il numero viene giudicato eccessivo perché noi come esseri umani abbiamo antropizzato il territorio, abbiamo occupato tantissimi spazi che adesso gli animali non possono più percorrere. I metodi ecologici che noi chiediamo da anni di provare a sperimentare sul territorio, ci sono anche dei fondi europei per questi studi di fattibilità o anche proprio per sperimentare sistemi diversi che non siano l'uccisione e su questi punti non ci viene mai dato ascolto oltre che come si diceva sul fatto che le specie protette in grave declino numerico continuano ad essere oggetto di caccia. Noi continuiamo a proporre le nostre proposte, le nostre idee, continuiamo a proporre dei progetti alle amministrazioni politiche e purtroppo non troviamo mai un motivo di essere di interlocuzione, non troviamo mai la possibilità di discutere seriamente e non solo a partire dall'ipotesi di uccidere sempre gli animali. Sì, importante è a voi, rivolgiamo che ci state ascoltando, a tutti i cittadini, sostenete le associazioni come la nostra perché solo col vostro sostegno riusciremo a diffondere i diritti degli animali, riusciremo a rivolgerci con forza alle amministrazioni pubbliche per una legislazione migliore e per un rispetto di quello che c'è per poter diffondere gli animali. Scriveteci alla nostra mail love.torino-love.it Ben trovati, sono il geometra Luisa Roccia, presidente del Collegio dei geometri di Torino e provincia e oggi vi parlo del ruolo del geometra fiscalista, una figura professionale legata al territorio che in ambito di fiscalità immobiliare può dare sia per competenza che per conoscenza supporto alla cittadinanza privata in merito proprio al fisco e tutto quello che è fisco intorno all'immobile. Quindi un geometra fiscalista può seguire il cittadino in ambito di compravendita dell'immobile per poi seguirlo nell'attività di lizie e di conseguenza poi con tutti i benefici fiscali e bonus che ci sono insomma in questi anni che si sono succeduti seguire tutto quello che sono le pratiche fiscali. Ci occupiamo di dichiarazione di redditi e quindi di dichiarazione di successione. Tutto quello che riguarda l'immobile può essere ancora ricompreso quello che è il calcolo dell'Imu e seguiamo il privato quando deve redigere dei contratti di locazione. Quindi cittadini rivolgetevi ad un geometra che per competenza e per conoscenza può veramente darvi una mano in tutto quelle che sono le problematiche dell'immobile. Sono con il geometra Dino Cambareri a cui passo la parola che è il nostro coordinatore di commissione di collegio che vi parla. Sono il geometra Dino Cambareri consigliere del collegio dei geometri di Torino e provincia nonché coordinatore della commissione fiscale. Come è noto ormai da anni il geometra oltre ad occuparsi di quelle che sono le pratiche catastali, immobiliari, estimative e amministrative, ormai da anni svolge anche le attività fiscali che sono ormai diventate complementari a quelle che sono le attività ordinarie. Questo fa sì che per il proprietario di casa possa diventare un valore aggiunto in quanto può fare affidamento ad un'unica persona di fiducia e di riferimento per le molteplici attività da svolgere. Faccio un esempio, la compravendita immobiliare dove il geometra può essere di supporto per il calcolo di quelli che sono le tasse, quindi quella che è la tassazione dall'IMU all'imposto di registro alla dichiarazione per la tassa rifiuti. Il contratto di locazione, quindi dove diventa fondamentale il calcolo della convenienza fiscale, è fondamentale perché in base a questo il geometra può consigliare quale tipo di contratto può essere significativo per il proprietario di casa in base al contratto che può essere a canone libero o a canone agevolato, canone agevolato che racchiude il canone contratto a canone transitorio o classico 3 più n anni. Questo è importante perché? Perché fa risparmiare quella che è la tassazione al proprietario di casa e un'altra situazione in cui è quasi quotidiana, ormai negli ultimi anni, l'ausilio di un geometra per le pratiche fiscali e quello del beneficio fiscale sulla casa. Parliamo di ristrutturazione di lizie, di riqualificazione energetica o l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche se questo bonus è stato recentemente ridimensionato. Però anche in questo caso è fondamentale il supporto del geometra fiscalista già in principio quando si va a fare la valutazione di quello che è l'intervento sull'immobile, perché oltre a quello che è la progettazione c'è anche quella che è la tassazione e la convenienza in base al bonus e in base alla redditualità della persona fisica, perché parliamo sempre di IRPEF. Grazie per l'attenzione e al prossimo incontro. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione!